La Regione ha ribadito la negazione dell'intesa alla realizzazione della centrale Gassa Sulmona e la posizione espressa dal governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso nell'incontro romano di questa mattina alla presidenza del Consiglio dei Ministri. La centrale elettrica invece, non essendoci a riguardo alcuna intesa, rimane ferma al paro. Si resta dunque al progetto iniziale che prevede la centrale in località Cassepente, ma c'è il forte no della Regione, avvalorato dalla risoluzione approvata ieri sera dalla Commissione Ambiente e Territorio. Il verbale della riunione odierna, redatto dei funzionari ministeriali, sarà inviato al Premier Matteo Renzi, che incaricherà il Ministero dello Sviluppo Economico di redigere il decreto sull'impianto. La questione diventa dunque prettamente politica, in quanto Renzi dovrà incontrare D'Alfonso, che dovrà far valere le ragioni della contrarietà. Abbiamo negato l'intesa mantenendo la linea coerente intraprese dall'inizio, ha commentato il sottosegretario alla presidenza della Regione, Mario Mazzocca. Il sindaco Peppino Ranalli, tornato proprio oggi dal Canada, ha chiesto a D'Alfonso di far riaprire il tavolo sulle alternative, come prevede l'apposita risoluzione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, che non è stata mai attuata. Come sono state fatte le valutazioni sul sito, poi scartato, di Castiglione a Casauria? Perché, si chiede il sindaco, non si prende ad esempio in considerazione l'ipotesi della localizzazione nella zona industriale? Per difendersi da eventuali posizioni discordanti, è stata fatta votare ieri sera la risoluzione proposta dal consigliere regionale di Forza Italia, Emilio Iampieri, che ha avuto il sapore ed anche la valenza politico-istituzionale di una vera e propria diffida nei confronti di D'Alfonso, che oggi non ha potuto far altro che confermare la contrarietà alla realizzazione dell'opera. Un'azione necessaria, quella intrapresa ieri sera, dopo il rischio dei giorni scorsi, di far passare in giunta l'adozione della delibera sulla centrale a propulsione elettrica. Sono state dunque stroncate sul nascere eventuali uscite fuori luogo, che avrebbero potuto verificarsi oggi. A chiedere di ottenere la risoluzione sono stati i consiglieri comunali di minoranza di Sulmona, Luigi La Civita, Mimmo Di Benedetto ed Alessandro Luci, insieme ai Comitati Cittadini per l'Ambiente. Siamo grati al consigliere regionale Iampieri, ha dichiarato la Civita, che per primo ha dato voce ai Comitati e al Comune di Sulmona e siamo molto soddisfatti per la tempestività e la chiarezza con cui la Commissione si è espressa, riconoscendo le nostre ragioni. Altrettanto soddisfatto Emilio Iampieri, si tratta, detto, di un segnale di grande attenzione nei confronti di un territorio che di tutto ha bisogno meno che di un insediamento del genere. Non siamo terra di nessuno, certe decisioni, a concluso, non possono essere prese calpestando le vocazioni dei comprensori.